L'Opria! 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 Quello dei servizi sociali a Messina continua ad essere un settore in subuglio con tante questioni aperte che attendono soluzione. Certo il tema è delicato, i problemi sono molteplici, le risorse spesso risultano insufficienti, ma più delle volte c'è l'assenza di una reale programmazione che impedisce al settore di decollare ed offrire quei servizi che le fasce deboli della popolazione giustamente chiedono. Oggi i lavoratori dell'assistenza domiciliare, dei centri di aggregazione giovanile e degli asili nido comunali hanno invaso Palazzo Zanca, accompagnati dalla segretaria della funzione pubblica della CGL, Clara Croce. Gli stipendi sono fermi al mese di aprire, a generare ritardi nella corresponsione delle spettanze e il mancato pagamento delle fatture da parte del Comune alle cooperative. La vicenda dunque è sempre la stessa. I lavoratori hanno raggiunto l'ufficio dell'assessore delle politiche sociale Nino Mantineo, la cui azione amministrativa negli ultimi tempi è stata più volte contestata. Nella mattinata il confronto, gli operatori hanno chiesto chiarezza sul futuro, che non è solo occupazionale ma riguarda pure gli assistiti. La FPCGL, che aveva già annunciato la protesta di oggi, sollecita adesso la convocazione di un tavolo tecnico alla presenza del ragioniere generale di Palazzo Zanca. Per domani intanto sono stati convocati gli stati generali dei servizi sociali.